Grazie a tutti. Siamo la diciannovesima puntata del ciclo di Catechesi dedicato al libro di Teneramata e apriamo oggi il ventesimo capitolo, siamo poco più che leggermente più avanti rispetto alla metà di questo splendido libro e anche oggi vorrei passare rapidamente alla lettura, non mancheranno gradevoli e importanti sorprese unite anche a comunicazioni importanti su cui evidentemente occorre ben riflettere e ben ponderare. Non esagererei troppo con i preamboli introduttori perché così facciamo in modo il ventesimo capitolo di potercelo gustare e anche magari un pochino commentare con l'aiuto del Signore integralmente. Quindi passo senza ulteriori indugi alla lettura. Sta parlando Teneramata e dice Guarda un'altra volta dalla finestra, disse la mia bella amica nuovamente di ottimo umore. Riconosci chi è con lei che sta molto vicina al tuo corpo infantile? Appresso al bambino timoroso stava un'altra Teneramata, o meglio il suo corpo di quel tempo immobile ed in atteggiamento di cantare. Molto bella ma non come la Teneramata celeste che stava con me di fronte alla finestra. Hai forse due corpi? Uno è reale e l'altro è apparente. Risposta Questo mio corpo accanto a te, dinnanzi all'inferiata, è il medesimo che possiedo dentro il salotto, ma già glorificato è un secondo dopo questo preciso spazio-tempo in cui stiamo. Prima di venirti a trovare, presi il mio corpo di ragazza, di questo stesso salotto, con l'intervallo di un secondo terrestre successivo alla fine del mio incontro con te. Attenzione, bisogna seguire bene questi passaggi. Glorifichai questo mio corpo mediante il possesso cosciente che la mia anima beata fece di lui e gli comunicai maggiore bellezza per impressionarti di più, ma non molta, per non farti morire di felicità. Come vedi la quinta dimensione fu una mia alleata, grazie al pieno dominio che noi beati abbiamo su di essa. Attenzione, guarda questo è un passaggio fondamentale questo qui, anche perché cominciano ad arrivare domande, non domande, ecco su, ma allora l'anima separata, il corpo, che succede, che non succede. Rileggiamo bene. Qualcuno mi, non so se ha fatto qualche commento, qualche mail, io ho detto, prima di fare le domande, aspettiamo che sto benedetto libro finisce. Dice, ma, uno mi aveva chiesto, dice, ma se Teneramata la vede col corpo, allora che è già risorta? No, perché la vista con il corpo, allora che cosa ha fatto Teneramata? Ce l'ho spiegato qui. Prima di venirti a trovare, presi il mio corpo di ragazza di questo stesso salotto, quindi è entrata nella quinta dimensione con la sua anima glorificata, perché quello che è successo nel tempo permane, chiaro? Come ha fatto ad entrare in questa quinta dimensione? Perché c'ha l'anima glorificata, lo spiega. La mia anima glorificata ha potuto fare questo. Quindi sta rispondendo anche a un'altra cosa, indirettamente. Cioè, se fosse stata dannata, certo che non può fare un'anima dannata questa cosa qui. Non lo può fare. Non può. Rivediamo bene i passaggi, eh. Prima di venirti a trovare, presi il mio corpo di ragazza di questo stesso salotto, cioè del salotto dove stavo cantando di La Pacca Rera, con l'intervallo di un secondo terrestre successivo alla fine del mio incontro con te. Cioè, Riccardo esce di casa, d'accordo, o esce di casa lei, si sa che è uscito prima, un secondo dopo questo commiato lei prende quel corpo. E non solo. Questo mio corpo lo glorificai mediante il possesso cosciente che la mia anima beata fece di lui. E gli comunicai, altra cosa che possono fare i beati, maggiore bellezza per impressionarti di più, quindi ancora più bella di quando tu mi vedesti da bambino, ma non troppo, perché altrimenti saresti morto di felicità. E conclude, come vedi, la quinta dimensione fu la mia alleata grazie al pieno dominio che noi beati abbiamo su di essa. Cioè, il pieno dominio sulla quinta dimensione, quindi poter fare anche questi, perdonatemi il termine, santi giochetti, è una caratteristica della gloria. Le anime beati possono fare questo, altre no. Né noi che siamo viatori, né tantomeni dannati. Scusate, se non lo posso fare io che sono un viatore, quindi che potrei anche essere, speriamo, un'anima predestinata, speriamo, alla salvezza, figuriamoci, non lo posso fare io, che per caso io posso andarmene a dieci anni fa, o a vent'anni fa, venticinque facciamo, dai. Quando c'evo tutti quanti i capelli, e dicevo adesso, voglio sorprendere qualcuno, adesso voglio, appaio venticinquenne con i miei capelli riccioletti, con il gel, no, lo posso fare. ma se tutto va bene, un giorno potrò farlo, se tutto va bene. Speriamo, per me e per voi, ovviamente, no? domanda, perché hai preso il tuo corpo di un secondo successivo al nostro incontro? E' risposta, non devi attribuire alla quarta dimensione o tempo un valore eccessivo ed inviolabile, che in realtà non ha. ricorda che lo spazio e il tempo vanno insieme e che noi esseri corporei, noi siamo uomini, non siamo angeli, siamo costituiti dall'aggregazione ordinata e cronologica attenzione, dei nostri atti di esistenza, realizzati e conservati nei loro rispettivi spazi, tempi istantanei e al ritmo dell'orologio. Quindi io chi sono? Già da adesso, anche se ricordiamo ogni tanto faccio il ribasso, io adesso vedo soltanto l'ultima carta del mazzo, non le vedo tutte le altre, ma il mio essere, la mia persona, bellissimo questa cosa qui, è costituita dall'aggregazione ordinata e cronologica di tutti i miei atti di esistenza, realizzati e conservati nei loro singoli e rispettivi spazi e tempi istantanei e che qui scorrono al ritmo dell'orologio, secondo dopo secondo. e si capisce per ogni essere vivente la serie di spazi e tempi è praticamente infinita, tuttavia ogni atto di esistenza con il suo rispettivo spazio e tempo, attenzione, è oggettivamente separabile nel cielo. è come una unità nella serie di atti vitali, cioè caratteristica nella quinta dimensione questi atti scorrono così, ma in cielo, quindi da parte di un'anima beata, sono separabili, è come una unità nella serie di spazi vitali. Attenzione che adesso qui fa un passaggio che dire fondamentale è dire poco. Attenzione a queste quattro cose che adesso spiega. Per meglio intravedere questo devi tenere presenti queste quattro nozioni. Quattro. La prima, la quinta dimensione conserva per sempre la perpetuità dell'organismo totale terrestre e celeste attenzione, di ogni beato. Ripeto, la quinta dimensione conserva per sempre la perpetuità dell'organismo totale. celeste e terrestre di ogni beato. Seconda, la glorificazione la riceve fondamentalmente l'anima spirituale che è la forma sostanziale del corpo completo dell'uomo e a sua volta l'anima glorifica un preciso spazio-tempo dell'organismo. Capito come funziona? Dopo, quando spiegherà meglio che cos'è la morte? Perché la morte è un fatto reale, non è un fatto che non c'è. C'è. Ma l'anima glorificata già ci sta spiegando dal momento che è la forma sostanziale del mio corpo proprio nel momento in cui viene glorificata ha la capacità di glorificare ogni spazio-tempo anche appena morta della mia esistenza terrena. Cioè, della mia esistenza terrena della quinta dimensione di tutto ciò che è stato depositato nel magazzino come dire, perenne della quinta dimensione. E quale? Può glorificare ogni preciso spazio-tempo dell'organismo. Quale? Ha quello che le conviene per godere ad un certo momento una determinata esperienza dilettevole della cosa accidentale. D'accordo? Ma vi rendete conto? Anche se uno fosse campato 23 anni con il mio grande amico Francesco. Chissà quanto si sta a divertire adesso, no? Eh, cioè vogliamo provare a vedere quanti secondi ci sono in 23 anni di vita? Ricominciamo con le calcolatrici, no? Cominciamo dal momento del concepimento poi, perché c'è anche il momento dai 9 mesi che siamo stati nel grembo della mamma dobbiamo aggiungere anche quelli però capite che ogni secondo vuol dire che un minuto sono 60 secondi cominciamo a fare questi giochetti vuol dire che un'ora sono 360 no, non 360 sono 3600 secondi un'ora quindi ci abbiamo già supponiamo che un'ora tu potessi avere 3600 spazi tempi da glorificare attenzione da prenderli poi e anche spostarli a seconda dei tuoi piacimenti già tu immagini ce ne avessi 3600 ma questo è un'ora un giorno sono 24 calcolatrice vai 3600 per 24 attenzione con un giorno un giorno 86400 non vi rendete conto noi arriviamo alla sera vabbè c'è stato anche il tempo del sonno grazie a Dio ma 86400 atti di esistenza in un giorno che vogliamo fare una settimana vogliamo fare un mese modifichiamo questo 86400 per 30 vado eh 86400 per 30 fa 2 milioni 5900 2 milioni 592 mila in un mese un mese vogliamo fare un anno dobbiamo moltiplicarlo per 12 vado eh per 12 31 milioni e 104 mila spazi di esistenza atti di esistenza vogliamo moltiplicarlo per una vita breve come quella del mio amico Francesco lo facciamo per 23 vado eh 715 milioni 392 mila atti di esistenza c'era da divertirsi il mio amico solo con la gloria occidentale a quale in quale va Francesco adesso ah in quello che in un determinato momento gli serve per godere una determinata esperienza direttevole della gloria occidentale quindi questo è sempre un di più rispetto alla gloria essenziale è sempre un di più terza capiamo no? terza la sottigliezza dei corpi glorificati consiste nel pieno dominio della quinta dimensione o eternità creata la sottigliezza che sarà una caratteristica dei corpi glorificati dopo la resurrezione a quanto te ne l'amata dice viene conquistata diciamo così dall'anima nella quinta dimensione da subito questo è il concetto che dobbiamo capire che è tra virgolette nuovo se fosse tutto quanto noto non sarebbe stato necessario rivelarlo questo è come quando si parla per esempio con Luisa Piccarreta della divina volontà è chiaro che la sostanza è nota ma se fosse tutto già noto e 36 volumi non servono a niente quindi stiamo dentro evidentemente le verità di fede altrimenti saremmo evidentemente da sarebbero da bandire queste conoscenze però ci dicono qualcosa di nuovo se no che ce l'ha da fare quindi la sottigliezza dei corpi glorificati consiste nel pieno domino della quinta dimensione o eternità creata attenzione è la spiritualizzazione analogica della materia corporale che si rende indipendente dall'ordine cronologico degli spazi tempi normali della terra ancora in cui ebbero realtà gli atti di esistenza la sottigliezza dei corpi glorificati per chi non lo conosce la sottigliezza è che cos'è avete visto quando Gesù la sera di Pasqua cosa fa entra nel cenacolo a porte chiuse allora significa che il nostro corpo attenzione che poi però dice toccatemi quando una settimana dopo c'era San Tommaso che diceva se non metto la mano nel costato non lo crederò quindi entra a porte chiuse però lo toccano non è uno spirito è una materia glorificata glorificata significa spiritualizzata cioè che perde la pesantezza e la gravitas della materia attuale questo non possiamo capire i concetti teologici questo San Tommaso lo spiega bene noi vedendo così ci si ma come è possibile se io vado contro il muro non ci passo attraverso il muro dopo più avanti lo spiega meglio spiega anche a livello di atomi che cosa succede nella materia glorificata e perché è possibile questa cosa in parte lo spiega più avanti così evitiamo poi di fare domande ecco però quindi la materia corporale viene analogicamente spiritualizzata quindi comincia a godere di questa pescifica peculiarità che è la sottigliezza del corpo glorificato e al tempo stesso però questa materia glorificata si rende volendo indipendente dall'ordine cronologico degli spazi tempi ormai della terra è chiaro perché altrimenti Terenamata non potrebbe stare adesso con Riccardo cinquantenne con il corpo che ci aveva un secondo dopo capite? cioè ha preso quel corpo e però l'ha fatto diciamo così giostrare fuori quindi togliendolo da quello spazio-tempo in cui stavo operando ecco che significa che si rendono indipendenti dall'ordine cronologico degli spazi tempi normali della terra in cui ebbero realtà gli atti di esistenza tieni conto che noi glorificati non siamo spiriti puri in questo paratempo tu godi in anticipo un po' della sottigliezza dei beati perché non siamo spiriti puri perché noi non siamo angeli non siamo angeli l'anima si separerà vediamo dal cadavere ma rimane sostanzialmente unita a tutti gli atti di esistenza compiuti nel tempo col corpo quindi il legame con il corpo non si perde mai completamente come vedremo si perde realmente quello col cadavere quello sì perché la morte non è ripeto una una finzione è una realtà ma noi dobbiamo entrare nell'ottica che il prima non si cancella non passa le nozioni del passato del presente del futuro sono soggettive cioè sono legate a questa nostra dimensione che è la quarta non è la quinta e in questo paratempo questo ormai l'abbiamo capito tu godi in anticipo un po' della sottigliezza dei beati semplicemente per il fatto di starci in questo paratempo perché come abbiamo tante volte detto una persona normale non può collocarsi in un quant'era uno fratto 12 miliardi di tipico secondo non lo può fare quarta verità quarta nozione l'organismo totale dell'uomo beato attenzione è fisicamente scindibile in ognuno degli spazi tempi o momenti infinitesimali della sua vita del resto e celeste 715 milioni 392 mila per una persona di 23 anni è divisibile in ciascun atto della sua esistenza e in questo modo può vivere esperienze di glorie in onde temporali assai diverse differenti da quelle che formano i suoi spazi tempi originali questo è un altro concetto che noi cogliamo ma non possiamo perfettamente cogliere perché noi l'unica frequenza temporale che conosciamo adesso non so se in fisica conoscono altra cosa ma noi comuni mortali uomini della strada è quella scandila dall'orologio noi non conosciamo la frequenza temporale del picosecondo non la conosciamo adesso lei ce la sta come dire ce la sta narrando ci sta mostrando una storia vedremo poi che quando Riccardo torna in sé c'era ancora la sigaretta accesa e insomma muo è parecchio che stiamo parlando di tenera amata la sigaretta accesa riminescenze di peccati arcaici dura 5 minuti mica dura mi mica dura mesi no? spero che siano chiare queste cose questo è un passaggio veramente fondamentale questo qui ti faccio un paragone supponiamo che tu scrivi su un foglio una frase una frase Don Leonardo è un sacerdote questa frase così facciamo gli esempi reali essa è rimasta formata realmente per sempre ma tu puoi cambiarla di posto molte volte se la scrivi su un foglio se io scrivo Don Leonardo un sacerdote su un foglio questo foglio in quanti posti lo posso mettere? da dovunque potrei divertirmi e portarmelo dietro lo faccio stare dovunque sul tavolo sulla scrivania sulla sede lo butto per terra lo porto in salotto lo metto sopra il mobilo lo metto dentro un libro dovunque in modo analogo un atto della tua esistenza insieme col suo insaperabile spazio-tempo una volta fatto può essere situato in molti altri luoghi in diverse onde temporali perché l'atto esistenziale con la sua materia spazio-tempo originale costituisce una realtà oggettiva indipendente quantunque faccia sempre parte dell'essere umano integrale pertanto col consenso di Dio ecco perché questa è roba d'anime beate perché Dio accondiscende come spiega Sant'Ommaso tutti i nostri desideri in paradiso il nostro Signore li esaudisce tutti tutti perché? perché non è possibile che ce ne venga uno che non sia conforme alla volontà di Dio e quindi li esaudisce tutti col consenso di Dio ho fatto in modo che il mio corpo di ragazza passasse vedete dallo spazio-tempo l'ho già detto prima originale che visse in questo salotto il 21 ottobre del 1923 al paratempo in cui ti sto visitando capite? dai qualcosa se si capisce proprio non tantissimo però dai qualcosa se uno fa attenzione si capisce poi come sia possibile non siamo in grado di 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 farlo però poi si capisce almeno io un po' capisco noi glorificati esercitiamo il pieno dominio sul nostro organismo integrale e sul complesso materiale energie spazio tempo eternità creata ricordiamo che c'è anche il discorso delle energie oltre che del tempo lui dice è complicato ecco a me all'ottava lettura che questa sarà l'ottava credo questa commentata è diventato un pochino meno complicato ah certo che anche io alla prima lettura stavo un po' ubriaco ci sono alcune cose amici cari che purtroppo questo mettiamocelo bene cioè chi ha studiato lo sa vi racconto un'esperienza personale cioè quando io stavo all'università io non sono mai andato a lezione mai per giurisprudenza che c'è da fare lezione che tanto il professore a giurisprudenza fa il riassunto del libro me leggo il libro e me lo imparo però sì certo solo che c'è un piccolo problema che siccome io non sono intelligente come Sant'Omaso che lui andava andava dicendo in giro che non gli era mai successo di leggere qualunque autore per quanto ostico e difficile di non aver capito tutto quello che diceva alla prima lettura questa è roba da Sant'Omaso da Guino non per noi poveri mortali allora che succede le prime volte mi incaponivo quindi arrivavo a un punto del libro non capivo qualcosa e cominciavo devo capire e rileggevo e rileggevo e non capivo un bel giorno mi aveva l'ispirazione di Anagia lascia verde va avanti continua a leggere è rimasta questa cosa che non abbiamo capito pazienza se tu continua a leggere arriva alla fine poi ricominci da capo seconda lettura non ho capito manco stavolta va avanti arriva alla fine terza lettura alla fine alla quarta o la quinta lettura capisci tutto capisci perché hai assimilato anche tutta quanto un'altra serie di informazioni che sono comunque contenute in quel testo e che poi ti illumineranno e ti faranno capire quello che non avevi capito all'inizio quindi non è mai opportuno e nemmeno consigliabile incarognirsi intestardirsi arriva alla fine e leggi questo è il mio consiglio personale presto o tardi qualcosa raccapizzerai però chiaramente a Vincicari ci vuole pazienza per alcune cose ripeto se non siamo come santo ammaso da qui purtroppo nostro signore ci ha rincontro in tutti quanti i modi possibili già già mezzo binacolo insomma no perché come dice San Paolo le cose spirituali non sono alla portata dell'uomo psichico dell'uomo carnale cioè sono comprese dalle persone che sono già un po' spirituali all'obiezione è complicato l'amata risponde fai un altro sforzo ciò che avviene in ogni istante della vita umana è possibile separarlo oggettivamente nel cielo poiché è un atto vitale di per sé isolato cioè faccio un attimo lo schermo ho l'Apple Pencil in mano io faccio quest'operazione ho alzato l'Apple Pencil per chi si sente il podcast se non vede il video quest'operazione è un atto isolato isolabile meglio ma anche ogni singola ogni singola parola che sto dicendo in questa catechesi scusate non voglio parlare di me ma dico questo perché è più facile forse capire è un atto isolabile e possiamo come dire isolarlo e frazionarlo non si sa in quanti modi o per quali porzione di tempo è chiaro che tu è come uno dei grani del lungo rosario dell'esistenza ogni atto che noi facciamo è chiaro che tu non riuscirai a separare fisicamente gli spazi tempi dei tuoi eventi vitali tu no perché la sappiamo non è la risposta no perché noi siamo schiavi in catene perché vivi con la coscienza inceppata nell'istante attuale l'istante attuale è l'unica tua opportunità di fabbricare gli atti di esistenza terreni i quali però una volta costruiti sono delle unità eterne ed in certo modo autonome in certo qual modo quindi nel cielo è possibile separarle per godere meglio la gloria accidentale capito terrenamata ha preso il corpo di un secondo dopo l'incontro con loro e l'ha spostato in un paratempo che era 50 anni dopo rispetto al 21 ottobre del 1923 spero che sia un pochino più chiaro obietta Riccardo non si contrappongono l'atto di esistenza originale cioè quello che fu vissuto in questo mondo e quello che risulta dall'adoperare quello stesso spazio-tempo unitario per un nuovo esperimento nella gloria occidentale vedete che le domande le fa già lui dice no anzi il fatto primitivo si esalta nel ripeterlo al vivo nel cielo non è che si contrappone si esalta come in un'orchestra il suono dei piatti turchi anziché coprire il suono degli altri strumenti li rafforze in intensità io personalmente questi piatti turchi non è che li conosco tanto detto fra me e voi così gli spazi-tempi terrestri si accrescono nell'assaporarli di nuovo nelle onde temporali della beatitudine obiettivo obietta ancora ricardo ma perché non hai tratto la tua fase temporale che vedo in questa casa simultaneamente col paratempo della nostra intervista dice se lo faccio simultaneamente ci arriva pure noi perché non mi avresti trovata nel salotto presso il pianoforte l'organismo materiale umano non è capace di biloccarsi come l'anima è assurdo che un medesimo atto di esistenza occupi due spazi uguali e coincidenti due spazi-tempi gli spazi-tempi insieme ai loro rispettivi atti di esistenza si possono separare nell'eterna realtà oggettiva si possono separare per attenzione ma mai si confondono più avanti ti dimostrerò in che modo si comunicano tra di loro gli spazi-tempi umani nel cielo quindi è impossibile trarre simultaneamente quella fase corporale che lui vedeva in quella casa col paratempo dell'intervista perché un medesimo atto di esistenza non può occupare al tempo stesso quindi simultaneamente due spazi-tempi uguali e coincidenti si scompongono gli atti di esistenza ma non si confondono ma non si confondono e Riccardo in calza ciò nonostante ti sto vedendo con due corpi e lei obietta risponde è perché corrispondono a due differenti atti terreni della mia esistenza si tratta di due spazi-tempi differenti sono separati dall'intervallo di un secondo terrestre inoltre non dimenticare che il corpo mio che si trova nel salotto e quello che è con te di fronte alla finestra si trovano in diverse onde temporali te ne farò una dimostrazione perché ti convinca che la mia unica anima spirituale sta animando i due corpi che di me stai osservando farò che il mio corpo che è vicino al tuo di bambino presso il pianoforte si giri verso di noi questo è un altro spettacolo fantastico il corpo di tenera amata che non mostrava la glorificazione di quel momento quello che sembrava cantare nel salotto lasciò di essere una bella statua di cera girò il volto verso la finestra e mi sorrisse con affetto mi avrei convinto la prova evidente che lei esercitava piano dominio sui due corpi che vedevo in lei ed è chiaro sulle rimanenti fasi corporali sugli spazi tempi del suo organismo integrale cioè se può fare questa cosa con quel corpo che lui sta vedendo pur essendosi con il corpo glorificato di un momento successivo collocatosi in uno spazio tempo differente quindi per poter guardare la scena è chiaro che può farlo con qualunque con qualunque spazio tempo del suo organismo integrale se lo può fare con uno lo può fare con tutti non c'era più il tragico legame del viatore con l'istante attuale del tempo terrestre non lo possiamo fare queste cose e qui c'è la grande domanda c'è la grande domanda domanda a cui è impossibile rispondere si può solo congetturare se non ci fosse stato il peccato originale qualcosa di questa roba che sarebbe stata io qualche sospetto mi permetto di averlo diciamo così quindi capite il maledetto peccato quindi l'odio assoluto che dobbiamo concepire contro 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 il peccato dobbiamo proprio concepire quando c'è proprio voglia di odiare dove la sfogo ah guarda se la vuoi sfogare sfogala contro il peccato ah lì proprio odio assoluto proprio odio implacabile proprio l'odio di quello che se potessi lo sterminerei lo strangolerei lo strozzerei lo annienterei come ha fatto il nostro signore Gesù Cristo sulla croce è stato annientato a carissimo prezzo e dopo tutte queste cose qui te la amata fa la sua bella domandina che ne dici dell'esperienza che stai vivendo mi domandò con un gran sorriso la bella te la amata celeste che è meravigliosa ma non tanto come te stessa l'amore che sentivo per te si è moltiplicato nel captare misteriosamente le mie emozioni infantili e adesso sentite infatti la mia eccessiva sensibilità la mia ingenua autocritica di bambino che avevo vissuto di nuovo appena un momento prima nella mia mente gridavano con gioia e tristezza insieme lei canta una bella canzone e per la prima volta nella mia vita mi ispira qualcosa di molto piacevole qualcosa che è bello e che non so definire che non oso accettare deve essere l'amore anche se conosco appena il significato di questo termine mi sento immensamente difficile ma non oso dire a me stesso che la amo poiché secondo le convinzioni con cui sono stato educato l'amore misteriosa parola deve essere tabù per me lei mi attira moltissimo in un modo diverso da quello dei miei parenti ed amici mi sono innamorato eppure non devo amarla solo perché sono un bambino erano deficienze dell'educazione del mio tempo sentite che dice adesso qui come mi dispiace che la mia timidezza di bambino e la mia paralisi di vecchio non mi abbiano consentito di darle nemmeno un bacio anche qui è stupendo è l'amore e come sappiamo tenera amata era uno dei tanti amori stabiliti da Dio per la felicità accidentale delle sue creature iniziamo il capitolo 21 massiva qualche qualche affacciata possiamo dargliela questo è molto lungo quindi abbiamo subito una grande informazione molto importante con la quale forse poi ci fermiamo e magari concludiamo tenera amata possiedi attualmente tutto il tuo organismo integrale dovremmo già saper rispondere a questa domanda domandai desideroso di indagare l'aldilà risponde quasi tutto mi manca il mio cadavere e ne ho bisogno per essere pienamente felice perché l'istinto di integrità somatica è molto esigente nel cielo è come se a te mancasse un dito ti rassegneresti ma non saresti molto d'accordo con questa mutilazione ma grazie al nostro Dio nella risurrezione finale riacquisterò il cadavere che la morte mi tolse e godrò ancora di più nella gloria che mi ha concesso all'altissimo capite che qui le verità di fede rimangono le stesse ma cambia la percezione del loro significato per noi la morte è la fine di tutto d'accordo? cioè nella testa nostra nella testa di di chiunque penso con la morte il passato è sepolto il mio corpo more quindi rimane noi pensiamo l'anima come dire e basta è normale che si pensi così se uno non fa attenzione a queste cose ma non è così perché tutte quante le dimensioni del nostro corpo integrale rimangono però quella del cadavere si perde realmente perché la morte di fede non è un'apparenza e che cos'è la resurrezione della carne la restituzione del cadavere che la morte mi tolse e questo che cosa comporta comporta che godrò ancora di più della gloria che mi ha concesso l'altissimo non deve meravigliarti che io essendo una glorificata abbia un corpo umano reale vero come il tuo ti ho già detto che l'organismo integrale dell'uomo è eterno sin dal concepimento ecco perché l'aborto è un delitto gravissimo perché ma questo vedete le assurdità della nostra folle società contemporanea ma ce ne sono tante ce ne sono cioè adesso la scienza sa benissimo che dentro lo zigote c'è tutto il programma genetico della persona tutto quanto lo sappiamo anche se non ci sono ancora nemmeno le cellule staminali dentro lo zigote non ci stanno arrivano molto presto però c'è tutto e nonostante questo si ostinano a dire che l'aborto si può fare perché tanto ammazzi un grumo di cellule queste sono proprio le le pazzie assurde di quelli che si credono adotti intelligenti e in parte lo sono perché le grandi scoperte scientifiche sono state fatte con con l'intelligenza ma anche il diavolo intelligentissimo il diavolo intelligentissimo allo stesso tempo è stupido perché voi capite ma come è possibile che una persona così intelligente come era lucifero va a commettere il suo peccato originale primo ed unico che rappresenta la sua rovina nella coscienza piena di tutto quello che sarebbe successo a causa di quel peccato e l'ha fatto lo stesso questo per quanto mi riguarda forse 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 mi so perso qualcosa forse mi sfugge qualcosa una cosa di questo genere è proprio la cosa più più deficiente più cretina che si possa fare eppure quello è l'essere più intelligente il puro spirito più intelligente creato da Dio misteri proprio quindi l'organismo integrale è eterno fin dal concepimento è certo che il mio corpo integro si trova totalmente sottomesso alla mia anima funzionando come un organismo materiale analogicamente spiritualizzato di nuovo ricorre questo termine ma io conservo tutti i miei atti di esistenza tutti i miei cambiamenti terreni nei rispettivi spazi tempi che mi ha toccato vivere nel mondo ho spiegato benissimo la risurrezione consisterà nel ricupero del cadavere tornato alla vita attenzione e nel proseguimento del processo vitale evolutivo e perfettissimo nel cielo cioè che cosa sta dicendo cioè il mio amico Francesco si può godere la sua corporalità nei 715 milioni 392 mila spazi tempi che ci ha avuto perché il suo corpo giace come un cadavere dal 23 maggio del 1993 dal 3 maggio del 1993 quindi è chiaro che il tempo trascorso da 93 a oggi non l'ha vissuto cioè ricomincerà a vivere la dimensione del futuro quindi come dire gli spazi tempi in avanti successivi dopo la risurrezione è chiaro quindi diceva ma se è così allora che serve la risurrezione come che serve serve come come che serve il cadavere è cadavere cioè io da quel momento c'è c'è uno stop no nel mio organismo integrale perché il cadavere è morto non è perso quello che c'era prima eh ma si è fermato quello che viene dopo questo non è mica un dettaglio da 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 nulla no non non lo è prosegue la grazia in questa vita e la gloria nell'altra questo è un principio di San Tommaso d'Aguino proprio metteteci la mano sul fuoco eh non alterano la natura dell'uomo grazia supponit naturam ac perficit diceva San Tommaso d'Aguino la grazia presuppone la natura e la porta alla perfezione non la contraddice prosegue nella amata la grazia in questa vita l'ora nell'altra non alterano la natura dell'uomo anzi la presuppongono la elevano e la perfezionano sta ripetendo quello che dice San Tommaso quindi noi beati viviamo come super uomini i veri super uomini non quelli di Nietzsche quelli non sono super uomini quelli sono super demoni quelli di Nietzsche con le qualità di sottigliezza agilità impassibilità d'altre ancora le proprietà dei corpi glorificati ma godiamo la vita celeste con tutto il nostro essere umano tale quale lo conosci qui per più super dotato che sia e poi ricorda delle cose eredità creata a quinta dimensione l'essere umano è eterno nel senso che già mai perirà nella vita futura ma è eterno anche nel senso che tutte le sue fasi di sviluppo tutti i suoi atti di esistenza tutti i suoi spazi tempi temporali materiali sin dallo stadio di cellula uovo ad eccezione del cadavere perdurano viventi senza termine sia mentre avviatore sia nello stato di vita di beato nel cielo del parametro della quinta dimensione ad eccezione del cadavere qui capisco che anche qui questo è un concetto che lei chiarifica abbastanza dobbiamo piano piano digerirlo metabolizzarlo d'accordo e farlo perché anche questo è qualche cosa che sconvolge i nostri parametri abituali con cui ci approcciamo al problema morte e al problema post mortem che c'è e come si sta ogni atto vitale qui attenzione dice ma dopo la morte si vive in stadio di anime separate insieme alla chiesa certo l'anime è separata dal cadavere dal cadavere c'è una separazione reale non di ragione il problema è che tutti quanti gli spazi tempi dell'eternità creata sono eterni si chiama eternità creata perché sono eterni non si possono perdere e quindi il contatto con la corporità non si perde non si perde in maniera definitiva non si perde ogni atto vitale nel suo proprio spazio tempo ovvero unità di esistenza delle tappe biologiche vissute in questo mondo quindi costituisce un'occasione di felicità nella gloria accidentale purché questo lo sappiamo già si sia vissuto in stato di grazia col nostro Dio poiché come ti ho spiegato se siamo vissuti in peccato grave quell'unità di esistenza sarà annientata nel ricevere il perdono divino e qui attenzione qui torniamo anche all'esempio fatto con gli spazi tempi di Francesco no? Don Pablo assai opportunamente questa è una nota sua non è una nota dell'autore dice lo direi anch'io per esempio se nella vita di 60 anni si è vissuto in grazia di Dio soltanto 10 morendo in grazia si salvano quei 10 anni dice per salvarsi basterebbe invocare di cuore il Signore almeno nell'ultimo istante ma niente si improvvisa vi immaginate una persona adesso qui no? quindi che cosa significa? e se Francesco fosse vissuto in grazia solo 5 anni di cui 23 questo numero diminuisce notevolmente e quindi capiamo quante occasioni e possibilità di godimenti di gloria occidentale sono carati una cifra poi ascolta queste cose e prova a vivere non stanno in grazia di Dio è la cosa più da deficienti scusatemi proprio più da scemi più da pazzi che si possa fare ma capite perché la Chiesa la Chiesa ha queste cose già le sa la Chiesa con la C maiuscola non mi ricordo se l'ha già detto Teneramato o lo dirà più avanti che queste cose diventeranno oggetto di insegnamento del Magistero autentico della Chiesa che cosa significa? significa che la Chiesa queste cose già le sa già le sa e già sapendole pure quando non ne aveva ancora raggiunto la maturazione storica perché allo stato attuale queste cose non sono entrate nel Magistero della Chiesa così come le formula Teneramata non ci sono ancora ma ci saranno ma che cosa c'è stato sempre? cosa ha sempre raccomandato la Chiesa? E i Santi vivi in grazia di Dio vivi in grazia di Dio non perdere la grazia di Dio per nessun motivo e se Dio non voglio dovesse essere capitato ma sbrigati di andare a recuperare perché perdi un sacco di tempo a correre di tra il peccato pazzie allo stato puro poiché come ti ho spiegato ripeto se siamo vissuti in peccato grave quella unità di esistenza sarà annientata nel ricevere il perdono divino rispondiamo a un'altra domanda che già mi hanno fatto se sarà annientata nel ricevere il perdono divino per un dannato sarà annientata? no e non perché se la possa godere ma perché se la possa ricordare continuamente soffrendo per essere vissuto in stato di nemicizia di Dio e per andare appresso a piaceri balordi torbidi e schifosi disprezzando la divina grazia come vedi la conoscenza della quinta dimensione è uno sprone morale per poter perseverare con gioia nella schietta vita cristiana tanto per fare come come si fa in certe serie tipo 1 che si finisce sul più bello adesso finiamo sul più bello perché la prossima domanda di Riccardo è allora che cos'è la morte lo vediamo la prossima volta perché adesso si aprirebbe un paragrafo davvero entusiasmante siamo già 55 minuti quasi 56 di conversazione e dobbiamo mettere punto come diceva la buona Luisa Piccarreta ma ne parleremo la prossima volta ecco di nuovo un santo anno a tutti e che Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga un santo anno